il vostro film finalmente uscirà vincenzo sì finalmente dopo tanto lavoro uscirà il 20 dicembre su amazon prime e su google play fabio è un altro momento importante della vostra carriera cinematografica esatto perché il primo film che approda su amazon prime quindi per noi non è un grande passo ma di più per noi un grande onore anche aver avuto un cast di professionisti riconosciuti a livello nazionale e quindi l'asticella si alza automaticamente in tutto questo dobbiamo dire che volete volete fare anche un'iniziativa per presentare questo film e far capire ai calabresi quello che è stato il vostro impegno ma l'argomento che avete trattato certo il nostro obiettivo è coinvolgere ovviamente il cast ma soprattutto i giovani perché è da lì che dovrebbe iniziare il vero cambiamento il cambiamento pensi debba iniziare un cambiamento che per riuscire ad amare di più la nostra città che è una città tanto bella e merita amore fabio avete realizzato questo film anche con giovani crotonesi dobbiamo dire che non fanno parte del mondo del cinema ma che hanno dato il loro contributo con passione con passione e con grande talento perché non bisogna dimenticare che i nostri giovani sono talentuosi come lo sono nel resto del mondo quindi senza nessuna distinzione questo è quello che cerchiamo di far capire a tutti quando uscirà il film 20 dicembre su amazon prime google play